segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tanto rumore per nulla si va avanti con questo governo che è sostanzialmente con le mani legate costretto a gestire l'ordinaria amministrazione costretto a rinviare l'ordinaria amministrazione qui ci sono delle cose straordinarie quali sono la guerra in ucraina e la questione internazionale la guerra in ucraina ci vede coinvolti nel ruolo di sostanzialmente maggiordomi della nato del fronte atlantico stiamo accogliamo la notizia di un rafforzamento della presenza militare nel nostro paese senza che ci sia uno straccio di indicazione al parlamento biden ci dice che arrivano 70 soldati in più nuovi sistemi missilistici a difesa della base di aviano e tutto è regolare dove il ruolo dell'italia continuiamo a mandare le armi non abbiamo nessuna capacità di essere propositivi in modo diverso rispetto alla guerra che come vediamo anche abbiamo appena parlato di questi nuovi missili a odessa continua e ci stiamo abituando a sentire di morti feriti e bombardamenti in una situazione che si sta cristallizzando rischia di diventare una guerra infinita io credo che servano ricette completamente nuove il ruolo dell'italia è un ruolo sostanzialmente subalterno all'alleanza occidentale che l'unica ricetta che ha per il momento è sanzioni e armi allora fa